Prendere le calze, annodarle, mettere dentro una retina, mettere le pinzette, cioè sono tutti questi sistemi casalini che andavano bene, ma avevano dei problemi. Il problema fondamentale di questi sistemi è uno solo, qualcuno deve compiarle, le prende dal cestello, deve rovistare la ruga sporca, deve cercare la calza giusta, metterla insieme e poi metterla a lavare. In caso di una retina, deve prendere una retina, metterle insieme tutte le calze, dopo che le hai lavate devi ancora guardarle bagnate e oltretutto devi di nuovo cercare le coppie giuste. Con Calze Noi Due abbiamo ripassato tutto. Chi usa la calza è colui anche che la tiene accoppiata. Quando se la toglie, la avvicina e queste eccezioni, vedete? Molto semplice. Poi le mette nel cestone dell'arba sporca, oppure nel cestello della lavadrice, non dipende, ma queste sono già in coppia. Quando le scone della lavadrice sono in coppia, le spette in coppia, le mette nel cassetto in coppia, le divide solo un quarto e le deve tossare. Tutto chi usa la calza è colui che la coppia. Un saluto da Andrea.